Nel vertice convocato dal prefetto di Nuoro dopo gli atti intimidatori delle ultime settimane è stato deciso il rafforzamento dei controlli sul territorio, anche attraverso la videosorveglianza e un potenziamento degli organici delle forze dell'ordine. Durante l'incontro il prefetto Dionisi ha annunciato che nei prossimi giorni visiterà i comuni del Nuorese maggiormente colpiti dal fenomeno.